Queste sono cose che decide il governo. Da un certo punto di vista credo che la nostra Costituzione prevede prima addirittura di fare il governo. Chi entra nel governo deve essere specchiato, deve avere l'onorabilità. Quindi se non l'avevano visto prima è un problema che riguarda loro. Non è che certo che l'elemento che sta emergendo, e credo che sia sotto gli occhi di tutti, poi io non voglio naturalmente condannare nessuno, ci sono i tribunali che lo fanno e tutto il resto, e quindi io ragiono semplicemente in termini politici e sindacali. Penso naturalmente che quello che sta emergendo è che il problema della corruzione nel nostro paese non è risolto.